Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di infliggere danni agli avversari con il fucile della Stark Industries. Che cos'è questo fucile? Dove si trova? Molto semplice. In qualsiasi modalità ad eccezione di rissa squadre dovete praticamente atterrare dove ci sono questi fasci blu-viola tipo. Ed è simile alla sfida di cui vi ho già parlato con la differenza che praticamente dovete ammazzare uno dei robot, prendere l'arma e utilizzarla contro gli avversari. Possono essere anche bot, robot, è indifferente, non è che dovete per forza sparare ad altri giocatori. È molto semplice alla fine quindi potete farlo in tutte le modalità tranne che rissa squadre. Quindi atterrate praticamente dove c'è questa colonna di fumo e ammazzate uno dei qualsiasi robot per prendergli l'arma. Di solito in zona diciamo qui trovate un'arma quindi se atterrate qui prendete la prima arma che capita a tiro e con questa ammazzate il robot senza morire naturalmente. E dopo che lo avete ammazzato, se ci riesco, prendete praticamente quest'arma qui, questa sorta di pompa e fate danno a qualsiasi cosa si muovi sulla mappa. Che siano giocatori, bot, qualsiasi cosa praticamente. In questo modo completerete la sfida. .